Allora, qual è il senso di un vaccino e che immunizzi? Immunizzi, capito scienza, capito scienza. Allora, capito Lino Banfi, capito figlio di Gasman, capito Vespa, qual è il senso di un vaccino? Deve immunizzare, io mi vaccino, vado in una stanza di 5 metri per 5 per 5 e ci sono dentro due persone che hanno contratto quel virus per cui io mi sono vaccinato con la febbra 40 nel massimo della malattia e io non contraggo niente. È chiaro il senso di vaccino, è chiaro imbecilli, è chiaro corrotti, è chiaro servi del sistema. Non venite a dire lo prendi in forma più leggera, non venite a dire di meno, non vai in terapia intensiva che tra l'altro non è vero niente, non è vero niente. Ecco, qui c'è un articolo del tempo, non è un giornale come chiamate voi Novax, specifico, Novax, è solo un dispregiativo perché noi non siamo contrari ai vaccini in generale, siamo contrari a questo vaccino che è stato preso nel sottoscala delle case farmaceutiche, che non c'entrava niente, che sta facendo arricchire a miliardi, a miliardi, non solo le case farmaceutiche, ma tutti quelli che ce lo stanno proponendo, compresi attori, cantanti, pentiti, quelli che prima dicevano il vaccino non vale niente, adesso invece è la salvezza. Ecco, sta facendo arricchire a milioni. È un vaccino che non dà particolari effetti collaterali. Barba, yeah, ciao!